Trattando sempre l'argomento tostatura, in particolare per il controllo qualità del caffè verde, è necessario introdurre l'argomento tostatura in laboratorio. Uno strumento tecnologicamente avanzato, come la tostatrice Icava Pro Sample Roaster, è lo strumento ideale per il torrefattore per poter controllare periodicamente, tostatura dopo tostatura il processo di cottura del chico che gli permetterà di valutare la qualità del caffè in acquisto nel suo processo di produzione del caffè. Icava permette di non solamente disegnare curve e profili di tostatura differenti, ma soprattutto, ed è questo il suo vantaggio, riuscire a replicarli con costanza nel tempo al fine di determinare la qualità del caffè e in profili di tostatura differenti. Grazie a tutti.